buonasera a tutti ragazzi bentornati sul mio canale beh ragazzi finalmente andiamo a commentare una vittoria in casa perché è già da un po che pisa non vinceva all'arena garibaldi stadio romeo anconetani dove oggi si è svolta la partita a pisa benevento dove il pisa ha vinto per due reti a zero bene vediamo subito la situazione insomma ecco ora qualcuno l'ha definita una partita soporifera nei primi minuti io direi che nei primi minuti nei due squadri si sono studiati perché pisa era era attento attento è stato attento in difesa sta attento al centrocampo e il benevento altrettanto quindi diciamo una prima porzione di primo tempo scusate giuro di parole ma insomma c'è stato questo studio dopodiché il suo assist di tour e moreo di testa insacca e siamo al trentacinquesimo bene moreo finalmente si è si è sbloccato ecco diciamo così dopo aver fatto uno stop non felice ma capitare alla fine ha insaccato di testa su un bellissimo assist di tour e bene da lì in avanti pisa si è preso coraggio e ha cominciato a macinare di più quindi abbiamo visto insomma un qualcosina di più si scende nei spogliatori solo 1 a 0 per il pisa nella ripresa io direi che qui cambia tutto qui cambia tutto perché mister fa le sostituzioni quindi entra torre grossa quindi poi subiterà sibilli poi entra beruato oggi bravo beruato bella partita di esteves bene maluta poi nagy insomma bene caracciolo ottimo caracciolo ha fatto anche una discesa una bella discesa c'è il pisa nel secondo tempo ha dato fatto vedere qualcosa di bello e abbiamo forse sprecato anche un po troppo è perché se la partita oggi prima 3 a 0 non si rubava secondo me niente a nessuno poi state le parate anche a parte del portiere benevento certo che sì però alla fine insomma una bella partita una bella partita soprattutto nella ripresa abbiamo visto ma io credo che il gol determinante per lo sblocco siamo così della partita sia stato quello di moreno poi su assist del nostro torre grossa tramoni al settantottesimo non si fa sfuggire la rete una bellissima rete quindi io direi così insomma bene 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 torre grossa con l'assist altrettanto bene tramoni a insaccare siamo sul 2 a 0 io direi che tramoni ha tirato giù la sala cinesta e ha chiuso la partita e più e nemmeno bene quindi oggi le sostituzioni hanno fatto il suo lavoro bene il centrocampo una difesa veramente rociosa che non ha non ha sbagliato praticamente niente quello che forse si è sbagliato un pochettino forse di più è stato in attacco e abbiamo oggi abbiamo veramente regalato ma va bene così insomma alla fine gioco del calcio e questo abbiamo vinto 2 a 0 ci siamo portati a casa tre punti che in un'ottica classifica quando no bene di più di più bene poi volevo dire questo marin poteva evitare di farsi a munire c'era nel senso ha fatto fatto un fallo che secondo me poteva tranquillamente evitare perché eravamo coperti dietro vabbè e poi e poi naci naci era già diffidato adesso salte dalla partita col cosenza non ci voleva non ci voleva e poi perché perché non ha battuto la puccia batti la punizione naci è dio buono batti la posizione la punizione non è affatto spazienti era abito non munito vabbè e pazienza che dobbiamo fa il problema è che col cosenza sarà una partita complicata difficile no è perché cosenza è una posizione veramente non bella di classifica poi vinto col frosinone ma gli sarà sarà un benevento sicuramente un bene un cosenza sicuramente un cosenza guerrito poi anche psicologicamente scusate rinfrancato quindi sarà ora c'è lo stop è chiaro si gioca l'uno e quindi sarà una partita veramente tosta poi avremo il cagliari in casa a pasquetta questo è doma bisogna bisogna mantenere questo questo questa mentalità questa lucidità che oggi ha portato a una bella vittoria a una bella vittoria dispiace per le verbe che state spuso ti piace le verbe io ce l'ho sempre nel cuore forse se non era per madan secondo me le verbe era ancora qua io le verbe come giocatore non mi è mai dispiacito voi lo sapete io veramente ce l'ho nel cuore va bene detto questo vabbè era solo una parentesi detto questo andiamo a vedere cosa riesce oggi il tabellino il tabellino riesce da questo nove tiri per noi cinque per il benevento i tiri in porta quattro per noi e uno per il benevento vedete che quando si tira in porta si riesce poi insomma a realizzare a concludere ripeto con forze con qualche errorino di troppo ma va bene così cerchiamo di cerchiamo per il futuro di sbagliare meno che sia possibile beh che dire io dico questa lunedì non ci sarà trasmissione non siamo negli azzurri perché purtroppo io sono impegnato nel lavoro e non riesco a farlo ci sarà lo stop ma ritorneremo qua tutti insieme il il 3 il 3 è il 3 sì quindi dopo 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 la partita col cosenza fondamentalmente quindi seguiteci seguitemi seguite il canale e bene niente apposta se vi è piaciuto questo video pollice su mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto date il sostegno al canale mi raccomando commenti commenti e commenti perché sono preziosi sono importanti e danno mi danno modo il danno spunto di sapere anche la vostra che nel canale è nato per questo insomma per uno scambio di idee di opinioni eccetera eccetera beh detto questo io vi ricordo una cosa il pisa resta e tutto il resto passa alla prossima